Il teatro, il palcoscenico, l'arte della recitazione e dell'improvvisazione spiegate alle giovani generazioni. Il PAC Performing Arts Center di Pesaro, dopo aver ospitato Fiorello a Maggio, ha aperto le sue porte di via Ciro Menotti anche a Fabrizio Biggio, l'altra metà di Viva Rai 2, che si è intrattenuto in una chiacchierata con i giovani allievi della scuola di teatro, spaziando fra le pieghe della professione, fra il proprio percorso personale e sull'importanza di scuole di formazione come il PAC. Visto che recitare è divertente, e i bambini sanno come ci si diverte, e il difficile è continuare a divertirsi, a rimanere divertiti per tutta la vita, però è questo che col PAC ci si riesce. Quindi io dico, io sarei venuto al PAC. Perché ho l'entusiasmo delle iniziative come questa, perché ce ne vorrei, perché i ragazzini hanno bisogno di queste iniziative, per stare lontani da? Da? Dai telefoni. Continuano dunque gli appuntamenti formativi del PAC, fondato da Giampiero Solari, che assieme alla moglie Paola Galassi, dopo una lunga carriera da drammaturgo, regista e autore fra teatro e tv, ha deciso di dedicarsi alla formazione delle nuove generazioni, dai bambini fino a chi vuole approcciarsi al teatro in età adulta. A un certo punto, dopo aver girato e continuare a girare, continuare con spettacoli sia teatrali che televisivi ed eventi, a un certo punto ho detto, sai che cosa? Sto a Pesaro. Io già stavo a Pesaro perché abbiamo creato il Teatro Stabile delle Marche ad Ancona, e allora abbiamo deciso a Pesaro, dove ormai venivamo da anni, di creare un centro teatrale, perché mancava, ci sono dei centri teatrali qua, però uno che aprisse a tutta l'Italia, a tutto il mondo, si aprisse e così sta succedendo. Biggio si è intrattenuto anche sulle origini della sua Florida a collaborazione con Fiorello. L'ho conosciuto perché ci siamo incontrati per caso, pensa guarda questo è incredibile, ci siamo incontrati per caso in via Asiago, e lui mi ha detto, ah grande vieni, non ci conosciamo, non ci siamo mai visti, strano perché sai in questo ambiente ci si incrocia sempre, ma noi ci siamo mai incrociati, e di qua di là, senti vieni con me, mi porta dentro un glass che era una specie di glass di Vivare 2, un antesignano diciamo, e dice siediti qua, io dico perché andiamo in onda, e dopo un minuto che lo conoscevo eravamo in onda insieme, e ci siamo divertiti come dei pazzi, e io ho un ricordo incredibile di questo, lui è così, lui è pazzo, lo apprende, andiamo in onda insieme, e ha fatto bene perché ci siamo divertiti. Ecco questo quindi è stato il mio incontro con Rosario.